Musica Cari amici bentornati in nostra compagnia Il Viaggio in Molise di oggi ci porta all'Istituto Agrario di Campobasso per la festa di primavera Per conoscere più da vicino e meglio le tecniche di coltivazione, di raccolta di piante, fiori, frutta e tante altre cose rimanete con noi Musica Rossella Gianfagna, dirigente scolastico dell'Istituto Pilla di Campobasso La primavera si saluta con una festa all'Istituto Agrario della città Sì, diciamo che questa è la festa dei ragazzi oltre che della scuola Diamo l'opportunità a tutti, anche la città, di venire qui, fare i nostri laboratori all'aperto e degustare i prodotti Quanto è importante abbinare un sapere teorico ad uno pratico Sposando le passioni e l'inclinazione degli studenti In questo caso un sapere che riguarda l'orto, le piante, i fiori La scuola professionale è fondamentale Poi una scuola professionale per l'agricoltura non puoi non fare attività pratica Noi abbiamo l'azienda collegata alla scuola Quindi i ragazzi fanno le attività nell'azienda E in più c'è la commercializzazione dei prodotti Infatti oggi facciamo la presentazione ma perché c'è proprio il discorso di azienda Coinvolgimento anche degli studenti in questa superficie di ben 5 ettari Retrostanti la scuola, impegnati tra orto, vigne Oggi poi un mercatino speciale Sì, è il mercatino dei nostri prodotti Abbiamo anche quel discorso delle piante Ma poi non siamo soltanto noi Ci sono anche gli stand di Campagna Amica Perché questa è una scuola Campagna Amica C'è anche la cooperativa Voli di Libertà Che collabora con noi Abbiamo un protocollo di intesa con la casa circondariale E qui diciamo che è un mercatino molto eterogeneo Però a noi piace così Attività come la realizzazione del formaggio Che coinvolgono anche la scuola primaria e la scuola dell'infanzia Sì, ci sono due laboratori per i bambini Tra l'altro le scuole si sono iscritte C'è sia l'orto per la scuola dell'infanzia E l'elaborazione del formaggio per la scuola primaria E poi a fianco c'è l'area picnic Perché dopo aver prodotto devono anche degustarlo Un modo questo di studiare e di fare scuola all'avanguardia Concreto e soprattutto entusiasmante Sì, diciamo che dalle aule alla campagna E dalle aule alla terra Professore Cristian Zoio Insegnante di materie tecnico-pratiche Qui all'Istituto Agrario di Campobasso La festa di primavera non può non essere un'ottima occasione Per il travaso delle piantine Piantine Sì, sono delle piantine aromatiche Quindi in particolare il basilico Che stiamo facendo trapiantare ai bambini di prima Una prima media, se non erro Che poi porteranno a casa per far crescere questa piantina E usarla poi per diciamo arricchire un po' le tavole Con pomodoro, pasta e quant'altro Dal seme alla pianta È lungo il procedimento, il processo, la cura Che ci vuole, la dedizione? Certamente, diciamo che dal seme alla pianta Noi qui abbiamo una serra dove acceleriamo un po' il processo Quindi con 20-30 giorni abbiamo questa piccola piantina Che poi verrà trapiantata appunto Per avere una pianta più grande E quindi pronta per l'uso Antonio Santopolo Docente di materie professionali all'Istituto Agrario di Campobasso Oggi grande coinvolgimento per gli studenti Perché scendono in campo con i loro saperi Che da teorici diventano pratici Soprattutto con le loro inclinazioni La loro passione Festa di primavera Eh sì, questo ormai è un appuntamento Che si rinnova annualmente E si rinnova sempre con maggiore entusiasmo E rinnovato entusiasmo appunto Perché arrivano i ragazzi nuovi E portano qualcosa di nuovo Però l'obiettivo della giornata resta sempre lo stesso E cioè quello di dare la possibilità ai nostri alunni Di tirar fuori le loro passioni Tirar fuori il loro protagonismo Tant'è che insomma Quello che avete potuto vedere Potete vedere E proprio la manifestazione riguarda Un'esposizione di trattori Perché abbiamo ragazzi Che sono appassionati Ai trattori agricoli Alle macchine agricole Ai mezzi agricoli Ci sono ragazzi Che sono appassionati All'industria di trasformazione agroalimentare Quindi abbiamo sotto Diverse ex alunni Alunni attuali Che hanno aziende Che trasformano La latte in formaggio Salumi Un allevatore di animali Di piccoli animali Di quaglie Di papere Di ocche Di tutti i piccoli animali Ragazzi che suonano Canzoni delle traduzioni popolari nostre Quindi organetti E ci sono veramente Almeno una ventina di ragazzi che suonano E quindi facciamo esprimere questa loro passione E poi abbiamo Chi vuole cimentarsi nell'organizzazione Perché tutto quello che vedete Per quanto riguarda anche la distribuzione dei panini E' tutto organizzato da ragazzi di quinta Quindi hanno loro trovato i fondi Hanno loro acquistato Hanno loro organizzato tutto E poi c'è ancora Il nostro laboratorio di caseificazione Per i ragazzi E che dire ancora Insomma questo è il mondo rurale Questo è il Diciamo così Sono gli argomenti Ai quali noi cerchiamo di far appassionare Di dare anche competenze tecniche e professionali Che si aggiungono a quello che loro già fanno nelle loro case E quando è festa È festa In campagna Con tanta musica Colore, sapori Non potevamo mancare Un punto di ristoro Sì, certamente Noi organizziamo questa festa In onore appunto della primavera L'organizziamo noi alunni Con l'occhio critico del docente E diciamo Prepariamo i panini In modo tale che Diciamo che si sposa Con la cucina italiana In particolare con quella molisana Sì, assolutamente con quella molisana Per rimarcare ancora di più Il legame Territorio Cultura locale E soprattutto Un'ereditarietà Che si trasmette ai giovani Questo modo Tra i banchi di scuola Assolutamente sì Grazie a tutti